Aumenta la capacità di stoccaggio per tre settimane dell'impianto di Cavallino. E' stata tamponata così l'emergenza rifiuti che per diversi giorni aveva condizionato la raccolta nel Salento e nella provincia barese. E' stata un'ordinanza del governatore di Puglia Michele Emiliano a sbloccare l'impasse concedendo anche a Conversano di poter incrementare per lo stesso periodo la capacità di stoccaggio del CSS, cioè il combustibile solido secondario ottenuto dalla componente secca, plastica, carta, fibre tessili, dagli scarti non pericolosi sia urbani sia speciali tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili come vetro, metalli e inerti. La gestione del rifiuto sarà possibile per il tempo strettamente necessario a consentire agli impianti l'immediata ripresa dell'accettazione dei rifiuti in ingresso e l'allontanamento delle coballe prodotte. Una situazione che non sembra essere gradita dalla popolazione di Cavallino che ha già annunciato uno stato di agitazione e soprattutto delle proteste in programma nei prossimi giorni.